A quel giorno, il bambino di un bambino è morto. Il bambino di 1982, il bambino di un bambino, il bambino è morto. Respira. Ciao, Gian. Torna quando vuoi. Hai una bella famiglia. Voglio portarti in un posto che conosco solo io, dai, a Kiana. Nino! Ora, chissà, c'è per rovinare pure l'amico tuo? Kiana! Allora, chissà, c'è per rovinare pure l'amico tuo? Qu'è? Ti sono le vittime di un'amico. Ti sono le vittime di un'amico. Sì, lei è morto. La sua vita è la tua. Grazie.